Usciti sconfitti dalla tornata elettorale dello scorso 26 maggio per le amministrative di Giulianova, Franco Arboretti e le liste collegate al cittadino governante annunciano la loro astensione nel ballottaggio che si terrà il 9 giugno tra i due candidati in Lizza, Pietro Tribuiani e Ivan Costantini. Nel ringraziare il 25,83% dei giuliesi votanti che lo hanno sostenuto, Arboretti si dice rammaricato per non aver avuto la possibilità di offrire un ballottaggio tra forze realmente alternative ma che vedrà gareggiare i due esponenti di centrodestra. Il candidato Tribuiani infatti è esponente della Lega, mentre il candidato Costantini è stato fino all'inizio della campagna elettorale coordinatore di Forza Italia per poi trasformarsi, a detta di Arboretti, in candidato di un inventato polo civico che raccoglie vecchi e logori esponenti del centrodestra e del centrosinistra. In calza inoltre a sostegno dell'arrivismo che caratterizzerebbe i due candidati che ritiene poco differenti l'uno dall'altro sia nel programma che nell'insufficienza delle incapacità politiche e amministrative. Sulla scia di queste convinzioni, Arboretti e le liste collegate al cittadino governante sostengono la propria astensione dall'imminente ballottaggio, garantendo per i cittadini che li hanno sostenuti una rigorosa e costruttiva opposizione in Consiglio Comunale sulla base del programma del cittadino governante.